Sono pesantissime, sono da usare d'inverno, io d'inverno perché tengono caldo, d'estate non le puoi mettere perché d'estate è fuori dal caldo. Ma tu la metti perché è gratis questa, te l'abbiamo regalata noi. La festa è sicura, quella è scontata, la metto perché gra... Un po' di amici degli Elio, le storie tese da mettere sul sito, dai. Bel concerto Marco? Fantastico! Fantastico!